Se volete acquistare crediti fifa a basso prezzo passate su fifacoin.com e con il codice grananas avrete il 15% di sconto Bella ragazzi siamo i grananas siamo tornati con un nuovo video lui ride perché è un coglione perché vuole continuare Cioè continua a voler fare un intro che non si può fare perché nell'intro c'è una bestemmia quindi non si può Capisci? Per correttezza verso chi non bestemmia Esatto non si può Comunque ragazzi noi siamo di nuovo Siamo di nuovo qui su un altro pack opening e non me caga il cazzo Ma e poi devo iniziare io ha iniziato te prima stai zitto Ha iniziato te prima dammi un po' e non me caga il cazzo Critto Hola Hola lan Questo no questo è con uno che gioca al lol La regola del turco Ma basta Sbagliamai se trovi i meci dopo non lo troverai Incredibile Ma te giuro Ma quello che c'ha Ben te che Ben te che Ma te è proprio zero Zero carciomercato Seguo solo l'Inter Seguo solo l'Inter Cazzo non pregami del Liverpool L'Inter Attenzione il tiro Valencia Davide Alaba ce lo da Ce lo da Müller Ma che cazzo Ripe Müller mi fai i miei colpi Vaffanculo Scialla Il telefono squilla ma c'è Benyant E' arrivato il momento Ma posso cristo addio Mi fai aprire un pacchetto Ma ne ho Tu prima ne hai aperti i tre Ok ci siamo Vediamo chi troviamo E' lui Nessuno Mamma mia mamma mia Mamma mia Come siuppò Tutu 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 Tuk mmmm Remi Inni Inni Che Gli Poi Guarda ce lo da Credibile Fernando Roba con un specchio Quando si vede Elia mi ha visto mai te gustavano apilo non c'è nessuno oggi che palle hazard c'ho un mega pack questo non lo apriamo Come singe you YMCA And a win Da me Messi Mi sento tipo tra un legacy Dammelo adesso Dai 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 It's gonna win YMCA Da Martins Oba oba Ma ancora gioca Ma ancora non sei imparato a pettinasse più che altro Vabbè più che altro Quanti anni c'hai? Oh Rudy Garcia Cipumoting Rapino Ma l'hanno allungato a tutti la faccia Pare tipo uno dalla banda da Maiana Come si chiama? Ehi fratelli Porca puttana Oh quelle che stanno nella banda Buffoni Buffoni Vai Sergio Buffoni Vai Come cazzo fai a dacci un argento dentro al cazzo di pacchetto d'oro Se ci vuole Cazzo no mi sono sbagliato da Che hai fatto? Oh per tu quello me Eh Eh no non è rimasto uno No ce n'erano due Dici? Si Vabbè comunque ne ha modurato nessuno Vaffanculo Ma io sto pure incogionito oggi Si tanto Eh è vero non ti hai rimasto uno No 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 Sbou Gilipoci L'ho detto bene È incredibile A caso proprio Vabbè voglio che leggi subito Il primo che trovo Io lo devi leggere Mo è bam Si O za Vai eh Berezovski Vabbè no Non devi cos'ha Devi proprio cominciare subito La prima lettera che leggi Ho capito Berezovski Cioè dammi tempo di vederlo al giocatore Almeno vai No challenge supercoming Vai come vuoi Capito come ti fa così? Eh ho capito Io pure uguale Berezovski Subito Ti riusci Io ho fatto Capopop Infatti Che coglione Vai vai Non l'hai saltato Pronto? Cazzo ho detto 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 Dai cazzo Dai 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 Carciamassus 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 Alla va Ambimicheo E niente ragazzi Anche questo video è finito Che abbiamo trovato? Grandissimo quadrato Basta Niente La EA ha deciso di non dare più nessuno Dentro i pacchetti E quindi ragazzi Se questo video vi è piaciuto Lasciamo tanti like Decidete voi Quanti like lasciare Però fateci questo favore Arriviamo A 7000 Eh? Che il prossimo pack opening Me lo sento Arriverà qualcuno dei forti Se becchiamo al prossimo Bella